Tra qualche istante andrà in onda il TG News, la controinformazione dei sopravvissuti italiani e della rete l'abuso. Vi ricordiamo che il programma è sottotitolato in 5 lingue che potete selezionare dalla sezione sottotitoli. Buona visione! In un momento si trasmittirà TG News. Contra informazione dei sopravvissuti italiani e della rete l'abuso. Vi ricordiamo che il programma è sottotitolato in 5 lingue che potete selezionare nella sezione sottotitoli. Buona visione! Buona visione! In wenigen Augenblicken können Sie hier die TG News sehen. Sie finden Nachrichten von italienischen Betroffenen und dem Betroffenennetzwerk in Italien, Rete l'abuso. Das programma wird in 5 Sprachen untertitelt, die Sie im Menü auswählen können. Viel Spaß beim Ansehen! Altri guai giudiziari per Mirko Campoli, l'ex dirigente dell'Azione Cattolica, condannato lo scorso marzo a 9 anni in primo grado. Mercoledì presso il Tribunale di Tivoli, il secondo rinvio giudizio per Campoli difeso dagli avvocati Antonio Rodero e Attilio Piacente. Durante la discussione in udienza preliminare, forse valutata la precedente condanna, ha scelto la via del giudizio variato, beneficiando così della riduzione di un terzo della pena prevista sulla base delle gravi imputazioni formulate a suo carico per il reato di violenza sessuale, inflitto ai danni di due ragazzini. La giudice dottoressa Sabrina Lincioni ha anche ammesso come parte civili la Regione Lazio, rappresentata dalla Garante per i diritti dell'infanzia dottoressa Monica Sanzoni, rappresentata dall'avvocato Pasquale Lattari, la Rete d'Abuso, l'Associazione Sopravvissuti e gli Abusi Sessuali del Criero, rappresentata dall'avvocato Mario Caligiuri e l'Associazione Noci d'Abus APS, rappresentata dall'avvocato Michele De Stefano. La giudice ha inviato per l'esame dell'imputato e la discussione al prossimo 11 settembre. Il Vescovato di Lausanne, Ginevra e Friburgo ha informato il 29 settembre 2023 che un sacerdote attivo nel cantone di Neuchâtel era stato sospeso per sospetto di abuso sessuale e che contro di lui era stato avviato un procedimento canonico. Il caso ha avuto uno sviluppo il 13 aprile 2024, quando è avvenuta una grande irruzione della polizia nella casa di proprietà del sacerdote di origine italiana nel piccolo comune di Sant'Angelo in Bado, nelle Marche. Secondo Archinfo, quasi dieci agenti della polizia scientifica sono scesi da tre auto e sono entrati in casa con le tute bianche e le valigette. Hanno perquisito i tre piani della casa e hanno posto i sigilli. A interessare gli investigatori erano soprattutto il garage e i locali interrati. Secondo i media di Neuchâtel, la polizia italiana sospetta sacerdoti di abusi sulla figlia minorenne dell'assistente medico che si prendeva cura di sua madre. Il caso è stato denunciato dall'istituzione della Chiesa, oltre che alla giustizia italiana. Questa denuncia, fatta nel settembre 2023, è stata trasmessa anche a Monsignor Charles Moreau, vescovo di Lausanne, Ginevra e Friburgo, perché il sacerdote risiede attualmente nel cantone di Neuchâtel. Il vescovado ha comunicato il 29 settembre la sospensione del sacerdote e l'avvio di una procedura canonica. La diocesi ha precisato di aver informato la procura di Neuchâtel. Il pubblico ministero del cantone di Neuchâtel, Pierre Robert, ha spiegato ad Arkinfo di non poter pronunciarsi sull'opportunità di aprire un'indagine penale su questi fatti. Spiega infatti di aver chiesto ulteriori informazioni alle autorità ecclesiastiche italiane. Hanno confermato l'apertura di un procedimento interno, precisando che la presunta vittima e la sua famiglia non avevano ancora presentato denunce alle autorità civili. Nel cantone di Neuchâtel non è stata quindi aperta alcuna procedura. La diocesi di Losanna, Ginevra e Friburgo ha affermato di voler collaborare con il sistema giudiziario e di essere consapevole che chiunque sia indagato non deve lasciare il paese. Da notare che il sacerdote in questione era già stato condannato per appropriazione indebica nelle parrocchie di Vaux. Sarebbe un prete accusato di abusi su un quattrodicenne. Don Giuseppe Bacchion, 89 anni, nativo di Mirano e residente a Noale, nella diocesi di Previso. Il prelato difeso dall'avvocato Nicolo Zampaolo del foro di Padova, l'altro giorno è finito davanti al GUP, Laura Alcaro e il giudice ha deciso di rinviarlo a giudizio. Le prove a suo carico sarebbero schiaccianti. L'episodio risale al 30 gennaio del 2023 quando due ragazzini si sono dati appuntamento sul sagrato della chiesa per giocare con gli skate e mentre si divertivano accanto a loro si è fermata un'automobile da dove è sceso l'anziano prete. I due adolescenti, senza minimamente sospettare quello che sarebbe accaduto di lì a poco, si sono fermati pensando che il conducente avesse bisogno di un'informazione. Invece nel giro di pochi minuti si è consumata la violenza sessuale. Il sacerdote avrebbe rivolto al ragazzino più piccolo, quello di solo i 14 anni, alcuni apprezzamenti inequivocabili, allungando la mano e toccandolo nelle parti intime. Lo studente ha immediatamente reagito, schiacciando la mano del religioso e insieme all'amico lo ha preso a male parole, intimandogli di andarsene immediatamente e di lasciarli in pace, cosa che il don avrebbe fatto risalendo in auto e allontanandosi. In Italia esiste, ormai da molti anni, l'unica associazione di sopravvissuti alle bussessuale del clero, rete l'abuso. Dovrebbe essere una battaglia comune a tanti, quelli di vittime e sopravvissuti, dovrebbe scandalizzare ogni abuso contro l'infanzia. Francesco Zanardi può invece raccontare quante censure, quante verità di comodo, quanta omertà e quanti intrighe e trame per nascondere, occultare, difendere gli abusatori proliferano in Italia. Rete l'abuso è online, ha un sito strutturato, che è una potente fonte di informazione e conoscenza. La mattina del 23 aprile, il sito di rete l'abuso è andato offline diverse ore per un violentissimo attacco informatico, che giunge a distanza di poche settimane, da segnalazioni e censure sui social a poste pubblicazioni di denunce di abusi e di sistemi di omertà, connivenza, difesa dell'abusatore. Questo non è il primo attacco subito da www.retelabuso.org negli anni, ma è il più violento e devastante. È una realtà che conosciamo fin troppo bene, avendo subito un attacco che frece crollare il nostro sito tre anni fa e ricordiamo i silenzi, le omertà, i volti girati all'altra parte, si sottolinea su worldnews.it, nell'articolo in cui è stata pubblicata la notizia. Per questo esprimiamo oggi tutta la nostra solidarietà a Francesco Zanardi a rete l'abuso. Contro ogni censura, ogni squadrismo, ogni violenza, siamo al loro fianco e continueremo a sostenere ancora di più. Ogni denuncia, lotta, battaglia, preziosa informazione di rete l'abuso, le nostre pagine, il nostro sito, erano, sono e resteranno a totale disposizione della rete. Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito. L'appuntamento è per sabato prossimo alle 12, a rete l'abuso news. Vi auguriamo un buon weekend. Grazie a tutti.